I fatti di cronaco lo confermano, la criminalità organizzata è cambiata e se da un lato, fortunatamente, si spara di meno, dall'altro le organizzazioni sono sempre più abili a entrare nelle stanze del potere. Dunque, cambiando i clan, devono al tempo stesso mutare gli strumenti per combattere l'illegalità, tenendo conto che oggi si fronteggi una forza capace non solo di superare i confini regionali, ma anche di espandersi a livello internazionale. Fondamentale, secondo Maglio Caruso, presidente di Fondazione Astrea, ente di formazione per le forze armate di polizia e professioni legali, il ruolo dell'intelligence. La criminalità è cambiata, si va trasformando sempre di più e non è più la criminalità organizzata delle stragi, ma parliamo di una criminalità organizzata che è entrata sempre di più nei meccanismi dell'economia e che probabilmente, proprio per tale motivazione, è diventata ancora più pericolosa. I dati statistici ce lo confermano e sempre di più, pertanto, si deve dare importanza a quel tipo di intelligence economica che deve essere attuata non soltanto all'interno del nostro territorio nazionale, ma anche a livello internazionale, perché oggi la più pericolosa delle organizzazioni criminali, che è l'Andrangheta, ha acquisito un grande potere anche a livello internazionale. Quindi gli strumenti per combatterlo attraverso l'intelligenza economica diventano veramente sempre importanti e vanno ad affiancare il lavoro di magistrati e forze di polizia. Grazie a tutti.